Sono Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia, fondatore dell'Intergruppo Innovazione e qui alle mie spalle, ma non alle vostre spalle, ma io spero a favore di tutti, stiamo celebrando per il quinto anno consecutivo alla Camera il WWWorks, cioè i lavoratori della rete, coloro i quali attraverso internet si sono inventati un nuovo lavoro o hanno dato nuova vita a lavori antichi. La versione di quest'anno, il nostro incontro, verte sull'unione tra essere innovatori e tenere a mente e a cuore anche la sostenibilità ambientale e quindi oggi presentiamo 30 storie di piccole e medie imprese italiane nate in questi ultimi anni che perseguono questo filone, innovazione e sostenibilità. Un grazie, devo dire, a Giampaolo Colletti, l'inventore di questa comunità e WWWorks, grazie al quale e con lui noi da cinque anni appunto siamo qui alla Camera e apriamo le porte del Parlamento a queste persone, a queste aziende, a queste storie davvero straordinarie.